Come sei acida il ciclo, firmi queste dimissioni in bianco in caso di gravidanza, guardala è diventata una balena, sono solo alcune tra le tante frasi raccolte da Fim e Fium che le donne si sentono dire sui posti di lavoro. Per questo nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le delegate di categoria hanno deciso di raccoglierle per raccontare la loro esperienza, ma anche per andare all'interno delle fabbriche metalmeccaniche per aprire un confronto sul tema. Ho avuto un'esperienza abbastanza pesante per me, qualche annetto fa purtroppo avevo un datore di lavoro che era molto maschilista e lui tutte le mattine scendeva in produzione dicendo che noi donne non servivamo assolutamente a nulla solo per pulire, per cucinare e per fare altre cose insomma. Questa cosa ripetuta costantemente tutti i giorni, oltre al fatto che noi donne non capivamo niente, mi ha portato purtroppo ad avere attacchi di ansia e di panico perché come dicevo prima purtroppo le parole ti logorano dentro. Non si fa squadra nemmeno tra le donne, abbiamo raccontato anche il fatto di quando è diventata RSU che ha avuto anche dei problemi. Sì, diciamo che non siamo collaborative tra di noi, quindi una donna che ci mette la faccia e cerca di portare qualcosa a casa per tutte e non solo per lei, ha le stesse donne contro. Infatti io quando mi sono candidata proprio sotto il mio nome hanno scritto forte, chiaro, non ti vogliamo. Oltre a tutte le frasi dette dagli uomini? Sì, va bene, quelle ti entrano dentro, ti fanno male perché comunque pensi che i giovani sono frasi dette da ragazzi quindi dovrebbero stare più avanti dei genitori, invece ci ritroviamo sempre nella stessa situazione. Oggi si va in fabbrica per raccontare un po' quello che succede tutti i giorni da colleghi uomini ma anche da colleghi donne, avete raccontato anche la vostra esperienza. Purtroppo nelle fabbriche, specialmente nelle fabbriche metalmeccaniche c'è una mentalità maschilista radicata. Un tempo fa un responsabile, quando sono stati fatti dei corsi di formazione, ho visto che nella lista non era presente neanche una donna, era un corso per carrellista. Al che è il responsabile mi risponde che per noi donne avrebbe trovato dei corsi di formazione adeguati oppure io ho detto da un capoturno prendi una femmina e falle pulire quella macchina, insomma queste ed altre battute. La maternità che dovrebbe essere un diritto ma in realtà non è così semplice. Sì, in effetti io ho raccontato anche la mia esperienza ma anche quello di tante altre colleghe, anche quando purtroppo i nostri figli si ammalano. Dobbiamo cercare di essere anche più unite ma anche verso la nuova generazione. Io come mamma di due adolescenti ho la responsabilità di capire e tenere conto anche che l'opinione degli altri rispetto alle tue, anche se sono diverse, devono essere accettate.